Moltissimi anni fa, ero un giovane ragazzo invaghito di una ragazza e ho scoperto dove abitava Posso farti una domanda? Come? C'è una redazione anche all'epoca Lavoravo in anagrafe Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata speciale di Tintoria Applauso E vai Alla mia destra, alla co-conduzione nel ruolo di ragazzo molto bello Stefano Rapone, Stefano, Rovereto ti dona molto Grazie, bella città Bella città Abbiamo visto la piazza, è comunque bella È comunque una bella piazza, è una delle cose più importanti delle città È molto difficile trovare un caffè Sì, dopo le 20 i bar di Rovereto ti dicono abbiamo già pulito la macchina E tu, ci sta Quelli che ce l'hanno Quelli che ce l'hanno, perché ci sono anche bar che ci hanno detto Abbiamo tolto la macchina per non avere cazzi Che comunque è un bar Scusate se abbiamo chiesto un caffè Lo caffè Come stai? Distrutto Tu? Devastato Esatto Dilagnato Ah diciamo, siamo sempre coprodotti da The Comedy Club Questa volta, dove siamo? Siamo a Rovereto, questo l'abbiamo già detto Siamo al Wire The Next Fest di Rovereto Puntata speciale Ci sono tantissime persone sedute e ancora di più in piedi C'è mezza Rovereto Sì, c'è gente C'è anche tutto un palazzo di Rovereto Sì sì Delle persone anche a casa Perché? Sì, perché siamo stanchi? Perché siamo stanchi? Dillo tu Perché il nostro treno ha fatto quanto? 200 minuti 200 minuti di ritardo Sì, oggi è successa questa cosa Infatti alcuni degli ospiti che dovevano venire da Roma non sono venuti Perché c'è stato un guasto a Tiburtina Per cui a Termini si sono fermati tutti i treni che andavano verso Nord E quindi noi siamo stati tre ore seduti nel treno a Termini Aspettando che ripartisse Noi come tutti le altre persone dovevano arrivare al Nord Italia in treno C'è stato un momento di panico diffuso a Termini Questo lo possiamo dire Sono arrivate le ambulanze C'era gente accampata No, no, è stato pesante Pensavamo di dover annullare la puntata a un certo punto Perché non sapevamo come venire fino a qua E c'è stato questo momento surreale In cui a un certo punto dalla stazione hanno fatto un annuncio Chiedendo aiuto alle persone Ho detto se qualcuno Perché non arrivava tipo il segnale da Tiburtina a Termini Una cosa del genere E qui hanno detto se qualcuno ci può aiutare Per dire il livello di disperazione Se qualcuno può aiutarci a far arrivare il segnale E noi abbiamo pensato Beh, il problema è che i treni non arrivano in orario Le soluzioni sono due La seconda è NordVPN Esatto E quindi abbiamo subito Abbiamo subito detto Abbiamo subito detto al capo stazione Guardi, la soluzione ideale non si può applicare in questo momento Però se usa Se va su nordvpn.com Slash tintoria Certamente Il segnale arriverà dalla stazione alla stazione Alla stazione E i treni torneranno a viaggiare in orario E così è stato E così è stato E così è stato I treni sono ripartiti subito Subito E l'annuncio speciale ha detto Grazie Non lo sapevamo ma Bastava un click Bastava un click E' bastato un click Quindi alla fine siamo partiti Eppure oggi Eppure oggi Almeno Sto viaggio Ce lo siamo ripagati Sto viaggio di otto ore Esatto Vabbè Non ci pensiamo Però non è certo Grazie all'efficienza Delle ferrovie italiane Che siamo arrivati a fare puntate speciali in giro per l'Italia E non è certo Grazie alla nostra energia Sicuramente oggi Che siamo arrivati a fare puntate speciali in giro per l'Italia Quindi deve essere Grazie alla qualità degli ospiti Che possiamo invitare ogni volta Quindi io senza ulteriori indugge Andrò a presentare l'ospite di questa sera Signore e signori Per favore Un applauso per Alessandro Masala Arriva Ciao Benvenuto Tu avevi già avuto a che fare con questi microfoni quadrati Non mi ero accorto di questa particolarità Ok Vero? Sono strani Nel senso che a un certo punto si canta? Sì è bravissimo Ok Qua si parla e qua si canta Se vuoi Ted ok Se vuoi cantare No io speravo in te Ah io? Sì Tu hai questa bella voce profonda Naturali E ci si diverte Ci si diverte Mi dicono che con questo microfono Dobbiamo stare proprio così Dobbiamo stare proprio così Tu offri sempre il mirto Ai tuoi ospiti Che è un liquore Roba forte Roba forte Bene 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 Molto bene Bene E Oggi Che hai fatto? Stai qua Quindi alla fine Allora io mentre venivo qua Io ho visto molti dei vostri podcast Non tutti perché sono un miliardo E quindi non è umanamente possibile vedere tutte le vostre puntate E mi sono chiesto che domande mi avreste fatto Nel senso Perché? Perché me? No? Quel tipo di cosa Non ti aspettavi questi contenuti bomba da Stefano? No No Devo dire di no Pronti via Sì Pronti via subito Avranno scoperto qualcosa che nessuno sa di me A parte che magari la maggior parte delle persone in piazza non ha idea di chi io sia Cioè noi non ci siamo messi questo dubbio Guarda però noi di base il pubblico lo consideriamo più che altro un ostacolo Ah ok Quindi se loro non sanno chi sei il problema è esclusivamente loro È loro in effetti Non avete un telefono Fatemi una foto e cercatemi su un gol immagini Io e Stefano sappiamo chi sei Quindi partiamo già con Con una ragazza che non sa neanche chi siamo noi Quindi figurati Sì sì tra l'altro Figurati quanto Ci sono degli abitanti di Rovereto che sono qua solo per filmarci e segnalarci alle autorità come schiamazzi in città Quindi figurati No in realtà visto che oggi tu hai già parlato qua al festival Stefano ha pensato di chiederti cosa hai detto così non ripeti le stesse cose È molto interessante perché tu mi chiedi le cose che Stefano vuole chiedermi Beh è questa nostra sinergia Sì ci leggiamo nel pensiero ormai Ah ok Quindi qual era la domanda? Niente no che hai fatto oggi e quindi di conseguenza di chi hai parlato Ti hai parlato nel... Cioè rifai il panel che hai fatto oggi Ah ok da capo? Sì Ok Così intanto io e Stefano beviamo Esatto Però l'ho fatto con la head di Cora Media Avete presente Cora Media no? Sì sì I podcast Io chiedevo al pubblico perché io comunque interagisco col pubblico Scusate se sto rompendo Ah fai no se tu li vuoi consigliare Cora Media sono quelli di Cora Prima di ogni podcast Allora non lo fanno esattamente C'era una piccola nota che mi ha messo un po' a disagio come l'hai fatto Era un po' Lo rifaccio Cora È così Secondo me c'è un... Non lo so Magari sono io C'è una punta C'è una punta di qualcosa Di qualcosa Di cosa Stefano No aspetta Stefano fallo tu Cora Eh vabbè Non lo dice così Così è molto somigliante secondo me No 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 non sono l'accordo È così Cora Che va a salire E se allunghi poco poco la O? Cioè la fai un po' più lunga? Sì Cora Così è molestia Si sta eccitando il pubblico Così è molestia Invece guarda Cora Ma mi sa che so io la voce di Cora Ora che Mi sono scordato che ho fatto io sta cosa Potrebbe essere Potrebbe essere Quindi c'era Vai scusami No no Niente di interessante Insomma l'ho fatto io Quindi No parlavamo di come raggiungere la Gen Z Tra cui voi sarete fortissimi Ma non lo so La Gen Z vi caga Da che anno inizia la Gen Z? Non ne ho la minima idea Da che anno inizia? Penso Boh 97 97 Guarda per dire esempio di Gen Z C'è uno che sta mangiando degli spaghetti di soia Con le bacchette in prima fila E questa è la Gen Z Cipollotto in testa Paura di niente Paura di nulla proprio Sta là Boom boom Ci sta Io apprezzo Quindi comunque Gen Z 97 Mi sa che noi 97 aspetta però quanti anni hanno? Eh c'hanno Tipo 38 26 Allora sì 26 ce li abbiamo 26 sì però 26 Poi già 25 Forse È il limite 25 Ma non lo so Poi Stefano considera che tu lo vedi così però Stefano ha 59 anni E certo E quindi per lui è già tanto Senti io in realtà avevo una domanda Noi sai a volte iniziamo le puntate chiedendo come ha iniziato però questa è una cosa detta e ridetta Però ecco diciamo Breaking Italy esiste da 12 anni 2011 Quindi sì questo è il dodicesimo anno che è straordinario Quindi è Gen Z È Gen Z inoltrata Esatto Esatto Tra un po' diventerà maggiorenne insomma Ma nell'arco dei 12 anni diciamo che mettendo contenuti online è inevitabile che uno comincia Poi c'è una crescita più o meno lenta però poi c'ha dei momenti in cui certi contenuti che metti online Arrivano a più persone cioè diventi virale e immagino che in 12 anni questa cosa sia successa Varie volte cioè ci saranno stati diversi contenuti che in diversi punti di questo percorso Sono poi diventati virali e ti volevo chiedere lungo i 12 anni se ti ricordi questi momenti Perché poi nel caso di YouTube questi momenti sono tracciabili perché c'hai proprio le visualizzazioni e i dati Ti ricordi quali sono i primi contenuti e poi dopo quali sono i contenuti che sono diventati virali E che quindi hanno allargato il tuo bacino d'utenza e secondo te perché proprio quei contenuti? Allora in realtà non ho mai avuto un contenuto questa cosa non è mai successa Ecco fatto La prima domanda mancata Mancata però è interessante nel senso che normalmente è quello che accade quando qualcuno fa un qualsiasi prodotto Cioè c'è una puntata c'è un qualcosa una stagione se parliamo di tv che ti manda insomma che ti rende famoso in qualche modo Questa cosa non è mai successa uno perché io non sono famoso e due perché ho avuto una crescita molto molto lenta Di creazione di una community Prima mentre bevevo uno dei tantissimi Ugo che mi sono stati offerti qui gentilmente Buonissimo buonissimo ne ho bevuto tre nel giro di 35 minuti Perfetto Quindi sono un po' come voi dopo otto ore di treno Mi ha fermato una ragazza che si ricordava il primo servizio di streaming nel quale io facevo le live che si chiamava Vocal Qualcuno di voi conosce Vocal? Avete mai sentito questa parola? Neanche il ragazzo che mangiava nessuno Nessuno Perché è una roba super sconosciuta Lei si ricordava e mi ha detto io tantissimi anni fa guardavo le tue live e eravamo in 15 E quindi il fatto che io mi sono piano piano portato un pubblico che è cresciuto assieme a me letteralmente Mi ha permesso di avere questa crescita molto organica Però non c'è stato un momento in cui il video in cui mi lancio dalla finestra e divento famoso per quella roba lì Perché ancora non hai fatto un video dove ti lanci dalla finestra? No questo è uno spoiler per il pubblico non dite niente perché settimana prossima Questo allora sto contenuto lo tagliamo Questo lo tagliamo E poi diventa una pillola che poi puoi usare Fai un reel io già l'avevo detta a Rovereto Esatto A Rovereto sapevano No quindi veramente non c'è mai avuto Però scusa cioè nel senso dice una crescita lenta Però lenta è inesorabile perché comunque in 12 anni per arrivare ai numeri che fa Breaking Italy non è proprio lenta Cioè va bene che sono tanti anni però raggiungi tantissime persone Non c'è mai avuto un momento in cui dici ah ok ho messo questo video qua che vedi Per qualche motivo che non mi aspettavo è esploso più degli altri Allora diciamo che a livello di community online no Quindi questa cosa non è mai accaduta anche perché io faccio così tanti video C'è uno al giorno che uno si mangia l'altro Cioè c'è sempre un nuovo giorno da guardare Non c'è un video che rimane lì un mese a fermentare diciamo Però diciamo che come impatto all'esterno qualche video sì Ad esempio io ho fatto una lunga intervista con il Leash Line di due ore Ho avuto la fortuna che è diventata segretaria qualche giorno dopo Quindi io sono entrato in redazione ho spalancato la porta e ho detto cambiate il titolo di quel video E non è adesso è la segretaria scrivete così Perché era candidata alle primarie No segretaria del PD intervista E quella roba lì devo dire che mi ha tirato un po' di attenzione fuori dal mondo online Perché io fatico un po' in quella cosa là Siamo molto molto forti, molto riconoscibili online Però poi diciamo nei vecchi media questa cosa non è faticosa Infatti questo si collega un po' a altre domande che ti volevamo fare Allora tu non sei un giornalista anche se lo sembri Cioè nel senso se uno vede il lavoro che fai sembrerebbe un lavoro di giornalismo Il fatto di non essere un giornalista è più un'opportunità o più un limite? Cioè ti toglie credibilità con i media tradizionali Oppure ti dà la libertà per esempio di fare come vuoi, di mettere le pubblicità Quale dei due aspetti senti di più? Allora entrambe le cose Nel senso che io appunto non sono iscritto all'ordine dei giornalisti Perché non potrei essere iscritto all'ordine Nel senso potrei iscrivermi anche domani Però poi perderei subito lo status Perché parte del nostro modello di business è avere le pubblicità Quindi con io che dico comprate questo, fate quello, questo servizio Vi consiglio questa cosa E questa roba qui un giornalista non la può fare Nel senso la potrei fare se io avessi un giornale E direi ai miei giornalisti c'è anche questa pubblicità Però non puoi dire comprate questo Non puoi prestare la tua faccia E questa roba qui ovviamente mi libera di tanti problemi Quindi io non ho editori Non devo rispondere di particolari problematiche legate a questo mondo Quindi sono effettivamente più libero Fortunatamente noi abbiamo trovato un modo per finanziare il nostro giornalismo Indipendentemente Quindi non abbiamo troppi vincoli in questo senso D'altra parte il nostro è un paese nel quale i titoli contano molto Quindi all'interno della comunità Diciamo dei giornalisti Magari alcuni sono molto aperti Altri invece ti dicono ma tu chi sei? Che è un classico no? In realtà in generale in questo paese Quando ma tu chi sei? E quindi io dico ma sono uno youtuber Se io ti dico questo qua è uno youtuber Tu cosa pensi? È un luminare in generale no? Poi in Italia per come siamo messi Tu sei un giovane youtuber Sono un giovane Perché ti rimane questa etichetta Fino alla fine Cioè tu sei comunque un padre di famiglia Quanti anni hai? Ho 39 anni 39 anni Padre di famiglia Il giovanissimo youtuber Sono giovanissimo Ma poi è una cosa solo di youtube questa Perché ci sono tipo i medici che fanno i tiktok No? Fanno i tiktok ballano Fanno attenzione al colon Si vede che ho 39 anni Attenzione alla prostata Esatto Con tutti i videini E quelli sono medici che fanno video su tiktok Ma se tu tocchi youtube Bam Sei uno youtuber È finita per te È finita Cioè Anche un Dario Bressanini Immagino che alcuni di voi lo conosceranno Chimico Professore universitario Però è anche uno youtuber Questa roba qui un po' Lo È un problema Lo etichetta Lo etichetta Tu non pensi tipo che se Fare qualcosa tipo in televisione Potrebbe darti Un Un credito Maggiore Che poi puoi dire Sì sono youtuber Ma sto anche Boh In televisione a fare cose Beh intanto io ho visto i trailer Della roba della jalappa con te Quindi io conto molto su di te In questo momento In che senso? Nel senso che magari mi trascini tu E metto pure io Ah puoi fare Puoi fare Puoi entrare con Nella comicità Sto là E dico delle cose Parlo anche di una guerra Metti che C'è una comicità Però poi io Parlo del Sudan E giù a ridere E giù a ridere Esatto E la jalappa che fa Ma no ma sparano a tutti Esatto Può essere un'idea Non lo so Beh sì sì Dai proponigliela Gli la proporrò Saranno contenti Stefano Stavino Non pensi che fare una cosa Potrebbe darti più credito Da quel punto di vista Se senti che è una cosa Che ti manca Allora Diciamo a un livello Fattuale non mi serve A un livello pratico Non mi serve così tanto Magari per raggiungere Un pubblico Un po' più grande Perché noi Sopra i 40 anni Fatichiamo un po' Col pubblico A livello personale Invece mi fa più piacere Ad esempio In qualche caso Sono stato alla 7 Sono stato chiamato alla 7 D'Alessandra Sardone Peraltro in virtù Di quell'intervista Elish Line Che quindi è stata notata E quella roba lì Un po' Ti dà A parte i parenti Che mi chiamano Mi dicono Ma ti stanno intervistando E ho detto Una cosa Un secondo Elish Line Bello Fine Ma se ti dicessero Allora Ti diamo un programma Sulla 7 Dalla prossima stagione Tu sapresti Ok Allora Il programma sulla 7 Lo farei così e così Oppure diresti No guarda Io ho già Il mio mondo Che ci ho messo Tantissimi anni A farlo funzionare Mi sembra un passo indietro O comunque un passo falso Andare in televisione Cioè lo faresti Se qualcuno te lo offrisse Allora Lo farei Ma non nel senso Di mollo Quello che ho Per prendere un'altra cosa Cioè per me È molto molto importante Tutto quello che ho costruito La relazione che ho costruito Con la community È estremamente importante Cioè ho veramente investito tanto E quindi Al massimo potrei fare Delle cose Ma mai Lasciando indietro Insomma Le cose che abbiamo costruito Che quindi Breaking Italy Un altro podcast Che si chiama Grandi Line Che faccio con la mia redazione Non sono cose che sono disposto A rinunciare Poi per la giallappa Sì Cioè ci vado Un paio di volte Però potresti fare Un Breaking Italy Però con le veline Così che ogni tanto escono E lo grido dici Sì sì Le veline Un gabibbo Però sardo Che ne so Anzi C'è delle cose Che fai suoni gutturali Esatto È un'idea Vorrebbe con le maschere Guarda questa se vuoi Staparte la tagliamo Perché se no Te la rubano subito Io te lo dico Dici Ci sono tanti soldi Dietro questa idea Secondo me Ok Sì sì Senti ma Invece Perché tu dici Su Youtube Mi sono costruito Tutta questa cosa Non ti spavento un po' Il fatto di essere Tra virgolette Solo su Youtube Che comunque Youtube sia La cosa principale Su cui si regge Tutta la baracca Che hai costruito In tutti questi anni Che funziona È bella Piace a tutti Ma se qualcosa Cioè se domani Youtube Che è una paura Chiude di ciò Esatto Che cosa succede Perché c'era anche stato Un momento Prima che io e Stefano Mettessimo contenuti su Youtube In cui mi pare Era cambiato l'algoritmo Per mettere pubblicità su Youtube E gli Youtube Avevano iniziato A guadagnare meno soldi Sì Quindi ecco Diciamo Sei comunque sia Vincolato A una società Privata Americana Che poi comunque sia Segue le dinamiche Delle società private Non hai paura Che Youtube sia La tua Più grande piattaforma Ma anche un po' Sei vincolato A lei Perché Youtube è donna Youtube è donna Giusto È ragazza Mentre Instagram Instagram è ciò che vuole Youtube invece si identifica Si identifica come donna Ok Allora Sì Cioè io vivo nel panico Ovviamente Nell'idea che tutto possa finire Nel senso che Youtube Allora Youtube non chiuderà È un'azienda così grave Adesso sta chiudendo Sta esplodendo tutto in questo momento Domani C'è un disastro negli uffici Gente che corre con dei fogli Però Non chiuderà Però effettivamente Ci sono dei continui cambi Di algoritmi Sono delle problematiche Che io a un certo punto Ho quasi chiuso Breaking Italy Quando ho smesso di guadagnare Da quello che facevo Quindi abbiamo aperto Un sistema di abbonamento Ci siamo salvati così Però Siamo un po' in balia Di queste piattaforme E la risposta è che Non posso farci niente Di fatto Ma questo secondo me Vale anche come Un televisivo Che magari ha paura Che non fa abbastanza share Quindi gli chiudono il programma Che è comunque Una problematica che esiste Nel senso Magari su Youtube Non è quel problema Nel senso che Puoi esistere Sinché hai un pubblico Però Quel pubblico È sicuramente Parte dovuto Alla community Che ti sei costruito Ma anche Se ti spinge un algoritmo Se Effettivamente Finisci nella main page Se i tuoi video Vengono linkati Con altri video C'era un periodo In cui I nostri video Perché erano cambiate A caso Le policy di Youtube Erano sempre flaggati Come controversi E quindi Perché parlavamo di guerra Parliamo di cose Un sacco allegre Come dicevamo prima E quindi Questa roba Faceva vedere i video A molte meno persone Che magari mi dicevano Ehi ma io non li vedo più I tuoi video Insomma Non mi capita più Di vederli là È un tema Però È una roba Molto più grande di me E ma Che riesci a seguire Perché tipo Io e Stefano Siamo in baglia di Youtube Però ogni tanto Parlo delle persone Dice no perché L'algoritmo di Youtube È così e cos'ha C'è un modo Di stare dietro a questa cosa E di sapere In che direzione Va l'algoritmo di Youtube Oppure Siamo tutti Cioè il vento soffre No diciamo Oh di qua Beh allora C'è chi è molto bravo A fare questa cosa Io non sono molto bravo Per niente Anzi i miei video Sono assolutamente Non ok Sotto questo aspetto Hanno sempre la stessa copertina I titoli sono un po' a caso Però perché ho fatto Un investimento di community E quindi le persone Vengono attivamente A cercare i miei video Quindi Però sì C'è chi è veramente Molto bravo Segue tutti i trend Però sì Cioè Quando fai un prodotto Come il mio In cui davvero Ci sono io Per 20 minuti Che parlo di una notizia Porto i dati E mostro le cose Non è che a un certo punto Vanno di moda i balletti Io posso fare i balletti A un certo punto Va di moda Sanremo E quindi devo per forza Parlare di Sanremo Sanremo Ecco qua Suonato una campana Certo E' una cosa del Trentino Questa Si 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 Ma quando si nomina Un santo Secondo me Qui La chiesa Che interviene Che interviene E' un avvertimento Tipo Occhio a quello che dici Infatti Solo una campana Una campana Poi la seconda volta Don don E poi Alla terza volta Parte un proiettile Però puntato su Stefano Su Stefano Quindi puoi dire Quello che vuoi Quel giubbotto È antiproiettile Antiproiettile Fino a un certo calibro Poi volevamo parlare Anche della community Però in realtà Uno dei modi Che insomma Che ci sono su Youtube Per tirare a campare Pur senza affidarsi Totalmente all'algoritmo Sono gli sponsor esterni Tu sei un po' L'alfiere di NordVPN Nel senso che poi Ah così lo citiamo Tu hai indicato Tu hai indicato la strada Io ho aperto la strada E noi abbiamo tutti seguito Quindi si può dire Che tu sei La pizza napoletana E noi siamo l'ananas Che è la migliorata Ok Sono d'accordo No vabbè Io toglierei anche la pizza E mangerei solo l'ananas Solo l'ananas Quello è il futuro No però Effettivamente Insomma avere sponsor esterni Stefano tra l'altro Aveva una domanda importante Su questo tema Infatti a te Quanto vi danno il VPN Vogliamo capire Cioè se ci sta fregando Oppure se Lo puoi dire solo a Stefano Fuori dal microfono Che ci teneva particolarmente Ma è abbastanza comunque Ma è abbastanza Per quello che gli diamo Con i nostri follower Che ogni giorno Stanno lì a cliccare Su NordVPN.com Slash tintoria Lo rifacciamo Ma tipo T'hanno regalato Un account NordVPN A te almeno Perché a noi no Per dire Cioè nel senso Comunque Dobbiamo soffrire Il nostro stesso coupon Uno sconto straordinario Per carità Però Però A sto punto Perché è così conveniente Che dici Ma che non me lo faccio Ti è arrivato mai un Forse più di uno Mamma mia Ma noi siamo tanti È una redazione Poi ci tracciano I cinesi Il governo cinese Perché chiaramente Cerco di vendermi Se controlli Breaking Italy Controlli Controlli Le elezioni Chiaro Le elezioni in America È una cosa così È tutto un giro I russi Che salutiamo Controllano Le elezioni americane Tramite Breaking Italy Che poi tu hai anche Un brand Di magliette Sì Se non sbaglio E avevo sentito In una intervista Che tu hai detto Che quando c'era stata Quella cosa di Youtube Che non guadagnavi più Guadagnavi con Con le magliette Ma com'è possibile? Cioè come fai? Cioè nel senso Come fai? Perché io ho le magliette Queste qui Vedi Che si trovano su RaponeStore.com No scusa No ste dai Se non lo sei tu ste E beh è scritto qua sotto Appare qua sotto Sì Però no Non è che ci guadagni È come NordVPN .com Ah dici che Dici che lo fai per divertimento Però non è una roba E tu invece Cioè è proprio una cosa A sé Perché le vie sono belle Eh perché Oh shit Oh fuck Dissing Vedi il pubblico Com'è Sente Sente il conflitto E applaude Questo è il pubblico italiano Per cui Questa è la tv Che gli ha insegnato Esatto Il pubblico dei talk No però il pubblico italiano Che si mangia gli udon Cioè qua veramente Senza pudore Perché stanno tutti mangiando Prima stavano con gli involtini Primavera No no Dovete mangiare pure voi Ma poi solo in prima fila Stiamo rosicando Incredibile Cioè Io sono cinesi Tintoria.it Slash udon Qualcosa Sì infatti cominciamo a vendere prodotti Prodotti orientali No scherzo comunque Le tue magliette sono molto belle Grazie E vedi qua Zero applauso Sulla riconciliazione Andiamo avanti Ti voglio molto bene Oh vedi Questo è il pubblico Ma guarda Roveredo è così Roveredo è così Io mi aspettavo tipo un Oh No zero 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 Solo L'Italia è un pubblico di violenti Da nord a sud Uno pensa solo a sud Invece no Anche a nord Anche a nord Vedi c'è questa cosa Un'attività separata Diciamo Cioè io l'ho anche promossa Spesso tramite Tramite i miei canali Però è un'attività separata Che ho anche Cioè mi sono impegnato Per allontanarlo un po' Perché sia un brand indipendente Quindi ho cercato di creare qualcosa A prescindere da me Quindi non so magliette Con la mia faccia Ecco Neanche le tue No no infatti No no Solo il mio nome Solo il tuo nome Sì E quindi Quindi sì Diciamo che è stata un po' Una fortuna Che nel frattempo Avevo aperto quel brand E quindi promuovendolo In qualche modo Ho tenuto le cose a galla Ah ok Quindi si può anche fare Del business Con le magliette Cioè non sono Una cosa collegata Con Non essendo una cosa collegata Con quello che fai Dici vive di vita sua Sì esatto Vive di vita sua Ok Incredibile Che roba Finché tante persone Hanno delle attività Laterali Dice Diverse Diversificano il business Invece io e Stefano Per esempio Se chiudono YouTube Io e Stefano Siamo finiti È finita Proprio non ci rimane nulla Tocca lavorare Dal vivo Tocca fare stand up comedy Per carità di Dio È più complicato E Stai io Volevo fare le domande Sulla community Sull'engagement Però se tu invece Volevi continuare Sul tema magliette Stavo pensando Se YouTube È donna E Instagram È fluido È ciò che vuole Non è fluido Ciò che vuole Facebook Facebook è maschio Anche secondo me Di mezza età Sì Facebook è un maschio Scontroso Ma anche di quelli Che non vuole sentire Parlare di fluidità Sì Ai tempi miei C'era un solo C'era solo Facebook Esatto E Twitter 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 che cos'è? Difficilissimo Forse ci stiamo Impelagando anche In una cosa Ma tanto poi Io È quello che vuole Io a un certo punto Smetterò di rispondere A sta cosa E lascio che vi Rimpagliate Sto problema Insomma Secondo me Telegram È lo zio strano Che fa C'è zio telegram Nascondi La biancheria Intima Esatto Quello che non vuoi Andare a vedere Cosa ha nei cassetti Nascondi TikTok Non lasciare TikTok Da solo Con zio telegram Succede Un disastro Esatto E anche qui Il reel L'abbiamo fatto Ah perché bisogna Giustamente spezzettare No no Che ormai Ormai È finita È finita Ok Senti ma Invece Tu c'hai moltissimo Intanto ci sentono C'è un cammino Dobbiamo urlare Sempre di più In modo da contrastare L'altra piazza Ma è quel bar Di ignoranti Che non vengono a sentire È quel bar che posso dire È quello che non ci ha fatto Il caffè Perché non vuole la cazzi Che però È un caffè Non è un cazzo È il tuo core business Cioè nel senso Ok siamo in Italia Invece no Qua mangiano il sushi Si mangiano il sushi Non fanno i caffè Comunque bar straordinario Ma adesso non fanno i caffè Certo la birra forse viene da lì Quindi se non vogliamo Che ci sputino alla prossima Parliamone benissimo No no è vero Però non fanno i caffè No E vabbè Comunque non la sera Bello Non è male vero Che te sei seduto qua E io e Stefano diciamo Principalmente cazzate No ma è interessante Sulla Sull'engagement Con la community Tu fai una cosa molto Molto interessante Secondo me Cioè Quando registri Il podcast a Milano La prima fila La fai Venire nel backstage E ci Chiacchieri Si Oh sei Sei bravissimo Sei anche un pazzo Secondo me Stefano Come vanno queste interazioni Cioè Cosa ti dicono Ti danno consigli Allora Io ho sempre cercato Anche nelle situazioni In cui Salgo su un palco E quindi si ha quell'idea Sto guardando in alto Un palco Di Mettere davanti Il mio essere Super normale Anzi Sostanzialmente Un disagiato Cioè alla fine Se tu inizi a fare Sto lavoro Non entrando in una redazione Normale Ma Facendo i video Da casa dei tuoi genitori Perché quello che facevo Comunque magari Un minimo di Almeno in me c'è E quindi io l'ho sempre Messo davanti E questa cosa Credo che mi abbia aiutato A mettermi in contatto Con le persone a livello umano Quindi Quando entrano le prime file Io molto spesso Conosco le persone Che sono in prima fila Proprio le riconosco Oppure in generale Dico loro Perfetto Adesso stiamo per parlare Con Cattelan Stiamo per parlare Con Cecilia Sala Sono agitato Oppure Secondo voi Cosa dovrei chiedere Oppure mi metto A raccontare aneddoti Oppure ascolto A me piace di più ascoltare Devo dire Che Non lo so Tanto mi ascoltano sempre Nel senso Arrivano Mi vedono tutti i giorni Invece conoscere gli altri Mi Interessa Non pensi Vai Stai vai Non pensi C'è un'altra volta questo È tornato Non ti viene a dire No mi piace Addirittura Noi abbiamo un sistema Di abbonamento E in questo sistema Di abbonamento È inclusa una chat È una chat telegram Con migliaia di persone dentro Che scrivono tutte assieme E quindi un costante Feed E io ogni tanto sto là E parlo con le persone E quelli che interagiscono di più Me li ricordo A me piace È bello Vedi Ma non ti è mai capitato Ok La prima fila Viene nel backstage E uno ha cominciato Ha monopolizzato la cosa Allora Shai ti volevo chiedere Intanto ti ricordi Quel video che hai fatto Nove anni fa E tu chiaramente Non te lo ricordi Lui invece lo sa a memoria No Quello Tutti si ricordano Cose che non mi ricordo Che ho detto io Ma anche mezz'ora prima Nel senso Non faccio così tanta roba Che mi dimentico Però no Normalmente Chi è più affiatato Cioè Le persone più affiatate Nella community Non si comportano così Poi Le persone strane Le incontri Io l'altro giorno Ero per strada Con mio figlio La mia compagna Stavamo litigando di brutto Sai proprio quella situazione Della coppia che litiga Ma che cazzo dici Ma è colpa tua Li hai lasciato tu quello No A urla Nel senso Ci urlavamo addosso Una tizia è arrivata Era in pigiama col cane E mi ha visto Si è illuminata Ha fatto Tu E quindi Lei si è avvicinata Io non volevo deluderla Quindi le sorridevo Ma nel frattempo La mia compagna Continuava a urlarmi Quindi faccio Grazie Grazie Con questo cane Che avevo Anche paura Che il cane andasse Dal bambino Quindi ero molto Era una situazione Un po' complessa Quindi queste cose Capitano Un'altra volta Una ragazza Si è seduta Al tavolo A cui io e la mia compagnia Stavamo cenando Da soli Al buio Cioè eravamo lì E lei si Eravamo Sai Una situazione carina Come va Lei si è portata Una sedia E si è seduta A fianco E mi ha fatto Ciao Non è andata bene Comunque E' stata Non è andata bene E io non ho fatto niente Che fai In quella situazione La tua compagna Ha fatto tutto Ciò che fai Sbagli In quel momento Non puoi Ha fatto lei Ok Non possiamo dire cosa Perché ci sono degli avvocati In mezzo adesso Però Ne era molti anni fa Però Questi sono proprio Due casi Che vi racconto In dodici anni Cioè La maggior parte delle persone È molto tranquilla E rispettosa Vedi E invece Cioè i commenti Online Li leggi Sì Purtroppo Cioè nel senso No allora Li leggo Allora Youtube Innanzitutto è una cosa Molto carina Che emergono sempre Quasi sempre I migliori commenti Inizialmente È il mio caso I primi commenti Sono sempre quelli buoni Quando io leggo i commenti Devo essere nel giusto mindset Cioè non è tipo Adesso apro Alle tre di notte E mi leggo i commenti Nel video Quello è sbagliato Bisogna andarci Preparati Quindi vado Ok Adesso vediamo Quindi normalmente Lo faccio con la redazione Adesso leggiamo i commenti E così è più facile Mettere le cose in prospettiva O anche che gli altri Mi dicano Ma questo tipo Che ti sta dando il coglione Cioè in realtà Ragione Cioè non è che Può succedere Cioè così te lo dice la redazione Guarda lo pensiamo tutti In realtà Ma come Ma se Mo' me lo dite Così da questo momento Con i loro nomi E le loro foto Io faccio Quindi comunque Vai a caccia di critiche Costruttive Nei commenti di youtube Eh sì E ne trovi E ne trovi Perché di solito Tipo Peccato Deluso Sì 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 Eh no Ne trovo Ne trovo Poi Ovviamente Le critiche Sono critiche Una buona parte Lascia il tempo che trova Alcune Feriscono Ma davvero hanno ragione Diciamo che le critiche Che fanno più male Sono quelle che hanno un fondo Di verità Cioè quando Passa il tizio che fa Ah t'ha pagato solo Se fai vabbè Almeno fosse Cioè Mi piacerebbe tantissimo E però Vabbè Però quando c'è magari Una critica che Ha un fondo Di verità Tipo questa cosa Potevi farla un po' meglio Il cui è un po' sbagliato E qui mi viene Ad arrabbiarmi Molto Vuol dire che Sotto sotto magari Qualcosa c'è Qualcosa di vero Cioè Sì a me Quello che fanno più male Per esempio Sono le critiche Tecne Soprattutto prima Quando facevo il montaggio Io Che comunque fa una bella puntata E poi dicono Peccato per l'audio E io là Non dormivo due notti Perché sapevo Che era verissimo Cioè perché Essendo io il tecnico L'audio è perfetto I primi dieci commenti Non si sente niente Va bene Ma magari fossero tutti così Fossero tutti commenti Critici Invece no Sono tutti Sono quasi tutti positivisti Comunque C'è quest'odio Però Siamo fortunati Io li odio tutti Non li leggo più Ho smesso Neanche quelli positivi Che ti rifano Bravo Me li faccio Tanto quelli li so Ci stanno Che te li dice Me la spero Perché poi Entri in questo meccanismo In cui tu ti aspetti Che vabbè Poi ce n'è uno Su cento Che dice Ah fai cacare Come ti permetti E qui ne dice Dopo per ne scosto cento Che dico Bravo Stefano Sono grande Esatto Però Te rimane quello lì E quindi vorresti rispondere Guardi Lei forse non ha capito Chi sono Forse non ha letto I commenti sopra E sotto Perché a quanto pare È lei nel torto Ma invece In termini di contenuti Breaking Italy Come redazione Scegliete a un certo punto Ok per i prossimi giorni Ci occuperemo Di questo argomento Qua Tra le varie cose Pensando È un argomento bello Siamo contenti di parlarne Alle persone piacerà Se poi invece C'è una reazione tiepida O fredda Delle persone Dicono Guarda Noi di questo argomento Non ce ne frega un cazzo E Dite vabbè Allora Lo lasciamo morire E prendiamo un altro argomento Oppure dici No Adesso Collate Assolutamente Comando io Decido io Cosa vi deve interessare Ok Di base In realtà Noi abbiamo sempre utilizzato La tecnica del cavallo di Troia Noi mettiamo una cosa Che è un po' appetibile Inizialmente ero terribile Facevi i clickbait Proprio quelli orrendi Tipo Uh Che cosa sessuale No Cora Come lo dicevi tu però Quella roba lì Cos'è Che cosa sessuale è accaduta oggi C'era l'immagine Di Sesso Esatto Sesso E poi Una priva Vedeva me Con accento Marcato Quindi Pedro Pascal Adesso si è dato al porno Esatto E poi All'interno Delle puntate In cui ci sono Delle cose Molto Cioè Un po' più allegre Infilavamo anche le tragedie No Quindi adesso però parliamo anche del Myanmar Bababam Questa è una roba che continuiamo a fare Infatti Una cosa che da tempo mi chiedono È di mettere il timestamp No Quindi mando avanti Io non l'ho mai fatto Così Così devi vedertela tutta Guardi tutta Ci abbiamo lavorato ore e ore È giusto Giustissimo E Stefano Guarda Ho appena letto Mi sono scortato subito Aspetta Ma come Mi hanno fatto una Una scaletta Beh comunque le dite Tintoria è così Leggiamo le domande E comunque ce le scordiamo Infatti la domanda era questa qua Come ti prepari Quando intervisti gli ospiti Era quella Cioè Ti prepari Oppure diciamo Come noi Esatto Io ho una controdomanda però A voi viene l'ansia Prima di Fare Guarda Dipende Dall'ospite In questo caso No Però non perché Non perché sei tu Perché siamo stanchi No Dipende Scherzo Vedi come ha plato gli stronzi Subito Subito Voglio nel sangue No no Dipende Dipende Cioè Non per togliere te Però ti tipo Non so C'era l'altra volta C'era Piero Pelù E comunque È un personaggio Che hai visto da sempre Dici oddio adesso magari Chissà Che succede Però forse Ma tipo Cosa ti dici Gli dirò una minchiata Penserà che sono un coglione No però infatti Poi vi dico Comunque va bene Seppure pensi che sono un coglione Lo faccio Mi pagano per fare il coglione Quindi alla fine Ah quindi ok Te la Cioè noi Alla fine ce la sfanghiamo così Nel senso che Seppure facciamo domande sciocche La buttiamo Sul ridere Ci sfottono Come abbiamo fatto adesso E quindi Finisce lì Ok E non dobbiamo essere seri Quindi No più che altro C'è un po' l'ansia Di non fare Delle cose che ci piacciono Cioè magari a volte capita Però O comunque Non vuoi tipo Infastidire l'ospite In qualche modo Che per ora Non credo sia mai successo Però è sempre Magari non ve l'hanno detto Questo sicuramente Non ce l'hanno detto Però È difficile Cioè che Capito Quei nostri Che hai fatto oggi Ne devi dire tanti Prima di infastidire l'ospite Sì Ok Io quando Per rispondere alla tua domanda Mi preparo In genere tantissimo Perché mi viene Molto l'ansia Prima di Mentre Non sono performativo No Ma nella preparazione Mi sale tantissimo l'ansia Che non farò le domande giuste Non verrà una bella puntata E poi Ho addestrato Appunto Una Addestrato è una brutta parola Ho preparato una community Che è anche molto critica Nel senso Se Non Faccio quella cosa Come Vorrebbero Sono Non è che mi dicono Guarda potresti fare un po' meglio No 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 Non me lo dicono Hai fatto una cagata di puntata Smettila Non farlo più Basta E quindi un po' Ma come ti permetti Ma chi sei tu Io sono il tuo dio Sei qui per me Ma se io vado sotto le vostre puntate Trovo un tuo commento Che risponde questa cosa a qualcuno Cioè sicuro a questo punto Che è già la seconda volta Non ancora ma No però Però Cioè Diciamo che voi Mi vengono da dirlo ogni tanto Quindi Il motivo per cui Cioè Il mio Il modo sano in cui Io reagisco a questo È che non li leggo più Però per dire Ma c'è che vuoi Comunque stanno a fare una cosa A te non ti viene da dire Anche a te La volevo fare così Certo Certamente Mi viene da dirlo Di nuovo Alle volte Quando magari I commenti hanno un po' ragione Tipo le cose Avrei potuto farle un po' meglio Mi rode Devo dire Devo dire anche che mi rode Un'altra cosa Che io intervisto Vari tipi di personaggi Io sono principalmente Giornalistico Nei miei contenuti Anche nei miei interessi Quindi sono Abbastanza preparato Sulle mie cose Ovviamente Se parlo con Qualcuno Che non fa parte Del mio settore Diventa una roba Un po' diversa Se parlo di comicità Non so cosa sto dicendo Ad esempio Mi sembra abbastanza evidente E lì Quando io quindi Porto degli altri ospiti Che non sono esattamente giornalistici E cerco comunque Di tirarne fuori qualcosa Di capire come sono fatti E come funzionano Alle volte Non è gradita Questa cosa Cioè il fatto che io Possa essere Multi interessi Cioè devo essere Quella cosa lì Il giornalista Le news E tu è là che devi dire Andate a crepare tutti Io faccio come cazzo Mi pare Scritto tutto in caps Nei commenti È quello che faccio Però Non scrivo nei caps Ma nei commenti Lo urlo fortissimo Dalla finestra E poi Poi faccio quello che voglio Ovviamente Però un po' mi pesa E senti Visto che anche noi Comunque subiamo Delle pressioni Anche se molto più leggere Se non facciamo Determinate domande E io Ti devo fare Una domanda E Allora La cacca in discoteca Guarda Non era la prima Che avrei fatto Però a questo punto Andiamo A questo punto Facciamo una breve Premessa Per Rovereto Per la ragazza Che non ci conosce C'è una rubrica tipica Di questo podcast Che si chiama Cacare in discoteca Discoteca Intesa È una metafora È il luogo dell'anima È il posto peggiore Dove vi è capitato Di dover andare in bagno Una cosa che facciamo tutti Però per qualche motivo Comunque ci vergogniamo Stiamo male Lo nascondiamo E quindi io chiedo E quindi io chiedo all'ospite Ti è mai capitato Di dover Cacare In discoteca Non in discoteca Ma Mentre Stolcheravo qualcuno Questo è Interessantissimo Voglio sapere Tutto Sono passati Molti anni E Ai tempi era tutto diverso All'epoca c'era solo Facebook Che ti diceva Vai 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 No Molti anni fa Moltissimi anni fa Ero un giovane ragazzo Invaguito Di una ragazza E Ho scoperto Dove abitava Posso farti una domanda? Come? C'è una redazione Anche all'epoca Lavoravo in anagrafe Ah 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 Subito gli squali Quindi ho scoperto Insomma Questo indirizzo E ho detto Al mio migliore amico Dei tempi Che è ancora lo stesso Siamo insieme dalle medie Gli ho detto Guarda Secondo me farebbe molto ridere Se ci compriamo Delle birre Andiamo sotto casa sua Mi dispiace molto Che ho fatto questa cosa Ma è successo E le beviamo Beviamo le birre E ci faceva molto ridere Questa idea Che noi eravamo lì sotto Non so Eravamo dei ragazzi Eravamo stupidi Quindi ci c'era a ridere Questa roba Che sapevamo Che era lì Non ho mai suonato Non è che sono andato E ho detto Oh ciao Non è mai successa Questa roba Però come siamo arrivati Io Immaginatevi La classica situazione In cui arrivi da una strada E ci sono i palazzi Che fanno la U Siamo arrivati Abbiamo iniziato A Bere ste birre Io ovviamente Mi sono immediatamente Agitato Perché ero pure un po' Cioè Non ci avrebbe mai visto Nei palazzi alti Non è che una saffaccia Guarda là Però io mi sono agitato Mi è venuto ovviamente Quella roba lì E non sapevo come fare Quindi Cioè Diciamo che Ho aperto La porta Di un Veicolo Che abbiamo utilizzato Per arrivare lì Sì Di un veicolo Cioè Non del veicolo Di una Del veicolo Ok ok E E quindi Insomma Ho Una parte di me Uscita dal veicolo Una piccola parte Eravamo per strada Ero molto giovane Quindi come Come i ciclisti Cioè che ti sei messo Mezzo dentro Mezzo fuori Esattamente Ok Ma cosa succede Quando sei agitato La solidità Può variare Può variare Era il peggio possibile Quindi io A un certo punto Ho detto Vabbè Questa cosa Non fa più ridere Ce ne dobbiamo andare di qua Questo peraltro Nei primi 5 minuti Non è che siamo rimasti lì 8 ore Cioè Era solo È l'unica cosa Che c'era ai tempi Siccome non c'era L'internet C'erano di tutto città Cioè quelli che tu usavi Con le mappe Che erano patinati Cioè era carta Ma era patinata E io Ero in difficoltà Il mio amico Si è molto divertito Cioè lui rideva tanto Io meno Quindi ho usato Questa roba Ma poi La Sardegna è nota Perché è molto ventosa C'era il maestrale Caso vuole Che il maestrale Inizia a tirare In quel momento E tutti questi Tutto città Iniziano a volare Verso La finestra Della mia amata Finisce così L'aneddoto Ce ne siamo andati Eh sì Mi sa che a quel punto Te ne devi andare Aspè aspè Magari lo vede Magari si affaccia Ma è Bellissimo aneddoto Grazie mille Ma questa ragazza Poi l'hai L'hai più Cioè È più rivista Oppure Sì Cioè nel senso L'Olive Mallet non sa Lei non sa Fino ad oggi No non può Ecco di chi era Quel tutto città Ecco di chi era Però mi fa ridere D'hai detto Purtroppo all'epoca Non c'era internet Ma c'era tutto città Se no con l'iPhone Avresti fatto Nel 2023 In effetti Per fortuna Che non c'era internet Perché se no Avrei potuto Certo Che carta avresti avuto Niente Bellissimo Grazie mille Sono felicissimo Sono felicissimo Vedi io Parlo di politica Poi dico Sta roba E la gente fa Non so Ma la gente Non sa un cazzo Perché se Se ci perdevamo Quest'aneddoto Sarebbe stato Bruttissimo Ma quindi tu Lavoravi all'anagrafe Cioè Che facevi Vabbè Ti fanno fare un po' tutto Nel senso Ti dicono Ah tu sai Usare i computers Abbiamo faldoni Di roba indietro Dal 9 Vai Inserivi cose Inserivo cose Facevo le Le carte d'identità Quando ancora erano cartacee Quella roba lì E poi hai fatto Anche altri lavori Cioè prima di fare questo Hai fatto altre cose Ho letto che Era anche stato Negli hotel Hai lavorato Sì ho fatto Un corso Diciamo Posto universitario Più o meno Io non sono laureato Però sono entrato In un corso Posto universitario In un modo o nell'altro Di management Alberghiero Quindi ho iniziato A lavorare In delle strutture Sia a Milano Che a Roma Non mi piaceva E quindi A un certo punto Mollato Ho fatto vabbè Ma perché c'è Che com'era lì Era un hotel di lusso Era un hotel di lusso E com'era la vita Negli hotel di lusso Si può dire Che hotel erano Almeno quello di Roma Che magari lo Sì L'hotel de lusso Si trova in Piazza del Popolo La piazza del Popolo Ho lavorato lì Cado un annetto Non tantissimo Non mi piaceva il lavoro Non è che stessi male Perché il lavoro è brutto A me non piaceva Ma non c'erano cose strane Capitate no? Non che possa raccontare Ah ok No scherzo Era un hotel La gente andava e veniva Scusa ma in che modo Cioè come differisce Lavorare per un hotel Di lusso Cioè che cosa dovevi fare Buongiorno Cioè come Dove essere proprio Quindi tu non ci sei mai Cioè questo è abbastanza evidente Io vado dove Dove mi prendono gli hotel Quindi vado da 3-4 stelle Quando lo spettacolo è buono Ma lusso Mai visto No vabbè Sono hotel In cui ci sono Le stanze Particolarmente curate Il ristorante Magari stellato Sono sempre in delle posizioni Molto centrali Poi in realtà C'è una grande differenza Tra gli hotel Nella mia esperienza Che è molto limitata Gli hotel di lusso a Milano Gli hotel di lusso a Roma Qual era l'hotel di lusso a Milano A sto punto diciamo Il Bulgari Il Bulgari Salutiamo la famiglia Amici Amici nostri C'è una differenza Di comportamento Diciamo Come si trattano I turisti Immagino che a Roma Vengano trattati molto meglio Sì Eh lo sapevo Noi siamo così Eh sì Poi ovviamente Erano frequentati Da un sacco di Celebrità Insomma Ne puoi dire due Allora Sì Se me li ricordi C'era Lady Gaga Ho conosciuto Lady Gaga Mazza A Milano questo No a Roma A Roma Grande Lady Gaga Ho conosciuto Che era successo un casino Con Lady Gaga La gente che cercava Di entrare in tutti i modi Era proprio La mia prima esperienza Di una grande folla Di persone Adesso dormiamo qua Due giorni E vediamo che succede Proprio quella roba lì Altri In Nine Inch Nails Per dire un nome Meno Boh Non so Non me ne ricordo No vabbè Ti hanno dato la mancia Allora Sai che la mancia È una delle ragioni Per le quali ho smesso Di fare questo lavoro Perché io detestavo Questa cosa Che mi davano dei soldi Beh però Nel senso No però Potrei trovare un modo Di scenderci a patti Con sta cosa No No perché Allora Io sono Un po' Io ci tengo a fare Le cose molto bene Sono proprio un maniaco Del controllo È una cosa mia E quindi cercavo Di fare quel lavoro Il meglio possibile Peraltro attirando Le antipatie Soprattutto da Roma Di miei colleghi Che magari Vabbè Io ero molto Le cose si fanno bene E si fanno bene Perché si devono fare bene Non perché mi danno i soldi E invece quindi Quando mi davano Del denaro Io sentivo che Come se loro pensassero Che io mi ero impegnato Per avere i soldi No Era una roba mia Non mi piaceva Vedi Questo è molto Molto bello Detto questo Una volta Mi hanno dato 10 dollari Sono andato in A bere Gli ho tirati fuori Mi hanno fatto notare Che erano 100 dollari Io non ero in grado E quindi niente Ho offerto da bere a tutti Con i dollari a Roma? Sì Ci sono dei posti Dove li cambiano Ah C'è un Dicessi codici Scusa Siete voi di Roma Peraltro Doveste sapere Non sappiamo i codici Del cambio di valuta Sappiamo altre cose La buco Nella serratura Che vedi Quelle cose sappiamo Ognuno C'ha le sue Ma è un codice alfanumerico Dacceli gli indizi Oppure è tipo Totti Goal Che entri e dici Un codice alfanumerico 75481 Invece no Che è una delle solide password Il tuo numero vedi Tre Tre cose Quattro Ma perché che lo so Ah so le dieci Ma Cioè in che senso Te li cambiano Con un passo diverso Nel senso che Ti danno più Cioè che vuol dire Comunque il cambio è quello No Dici Sì però ovviamente L'ufficetto Si tiene una Ah ok Diminuiscono un po' Perché sei amico Ah vedi vedi Però non hanno modo di conto Beh Magari adesso si Perché ci sono i cellulari Però Non hanno veramente modo Di controllare Se tu Ma è un codice Che viene dato A altri operatori Dei Cosi exchange Per cui se vai là E dici guarda Io comunque ZB4FZ2 Allora a lei Le diamo così Ma sta da Roma Stanno tipo Forza Roma Ovviamente Ti danno le cose Esatto E stai super credibile Dicendo Passerei inosservato Dicendo Forza Roma Sì Cioè comunque Apprezzerebbero Secondo me L'impegno Sì Un'altra mancia Di Dario Dario Comincio Oh no 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 Ho detto Forza Roma Perché lo ci tenevo Per prendere i soldi Esatto Esatto Stefano vai che ti vedo carico Sì Senti ma invece Allora Il tuo nick Che è Shy Viene dai Videogiochi Giusto Sì Sì Ok Io voglio Io sono un motociclista Quindi la moto Wario ha la moto Tipo l'Harley Ma Mario Kart Quindi prendi Wario Su moto O a Smash Prendi Wario No 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 Mario Kart Wario su moto Pazzesco Perché tu invece prendi Io prendo Donkey Kong Su Scooty Anche se adesso Dopo l'ultima patch L'hanno un po' nerfato Però Non prendevi un altro personaggio Tu No No vabbè Sì prima prendevo Lo Shy Guy E io pensavo No e ora prendo Donkey Kong Non posso mentire Ah ok Sì però prendevo Shy Guy E quindi Shy E Stefano era Felicissimo di questa cosa Io pensavo Ti chiami così E quindi prendi anche Per simpatia Per simpatia Che devo dire Nella versione italiana Si chiama Tipo Timido Quindi tipo io Quando Sì sì Si chiama Tipo Timido Che però Ho rovinato tutto Ho rovinato tutto La traduzione come sempre Oh ma invece Che La domanda che Stefano Voleva fare era No Non mi ricordo Che videogiochi Ah vabbè Perché era quella Sì sì No poi stava parlando di moto Quindi noi c'erano due argomenti Che potevano Però parliamo di videogiochi Eravamo su videogiochi Vai vai No Abbiamo letto da qualche parte Anche un periodo World of Warcraft Un periodone World of Warcraft Altissimo Che anni All'inizio All'inizio Adesso annoiamo tutti Perché non sapete di cosa stiamo parlando Ma che ce frega Guarda questi proprio Ignorati Sono delle persone figuranti Tanto basta che ci diciamo Degli insulti Questi sono contenti Questi sono felicissimi Allora Che classe ti eri fatto Il Rogue Ah mazza Ok vedi Speravo mi dicessi lo sciamano Così subito Potevamo dire Il Rogue Troll Che non faceva nessuno Sì Il Rogue Troll Che era molto figo Perché parlava in giamaicano Quindi parlava tra le robe del voodoo Quando hanno tradotto il videogioco in italiano L'hanno fatto napoletano Eh I nostri giamaicani Infatti dicevo Ma perché? Peraltro tenendo viva la cosa del voodoo Quindi c'è il troll che fa La superstizione Dentro al voodoo Ho offeso tutto È una roba così Ho voodoo Infatti Giamaica Campione d'Italia Questo diciamolo Ci vorrebbe stare E quindi C'è un periodone Quindi quanto sei È tipo due anni Ho iniziato a giocarci molto Quando è uscito a Burning Crusade Ok Lì è proprio sottissimo E ho continuato Sino a Wrath of the Lich King Che World of Warcraft Purtroppo è tremendo Cioè gli devi dare la tua vita Devi dire La mia vita vera non esiste E io la offro a te No ma infatti Io a un certo punto Ho fatto sto master Perché i miei mi hanno detto Senti Ma tu Perché io ovviamente Facevo solo quello Cioè io Non è che ho iniziato subito A stare mille ore Attaccato Però Più Mi allontanavo dal mondo vero Più mi allontanavo dall'università Più mi allontanavo da tutto Più i miei amici giocavano a World of Warcraft Quindi non ci vedevamo più Ma ci sentivamo soltanto Insomma Nelle chat vocali E più i miei mi vedevano scomparire Come un Ikiko Mori Dentro la mia stanza E quindi a un certo punto Mi hanno detto Dai magari Magari no Sì no capisco Io ho due amici Ho perso per World of Warcraft Per due anni Che proprio per andarle a vedere Dovevi andare Alle loro spalle Mentre giocavano Fortissimi Però è bello Vederli giocare Però dice Vabbè noi usciamo fuori Ti ricordi fuori Adesso Sono di nuovo amici In carne e ossa Ma qui Era terribile Che le poche volte Che uscivamo Parlavamo di World of Warcraft Cioè Era una roba terribile Io mi ricordo La mia fidanzata Dei tempi Che mi diceva Sì però Cioè Che palle Nel senso Uscivamo tutti assieme C'erano tutti gli amici Perché poi era una roba Super maschile Erano altri tempi Adesso che World of Warcraft Sono tutte donne Sono tutte donne adesso Non fa proprio E poi Le ragazze Che stavano lì E facevano Bello Ma tipo Quante ore ci giocavi? No giocavo tipo Tutta la notte Poi dormivo un po' il giorno Era una situazione Proprio Da manga giapponese Però non ti manca Quella cosa? No No non mi manca Perché Stefano Quando hai detto Giocavo tutta la notte Gli si sono illuminati gli occhi Ha detto Quella è vita Un po' sì Io non riesco più Io mi addormento ormai Sempre In ogni situazione Infatti Cioè Eppure anche perché Non abbiamo più il fisico Per giocare ai videogiochi No ma qui da un momento all'altro Io inizierò con la bavetta Cioè È questione di tempo È il podcast giusto Io penso che Quasi sicuramente Anche se questa puntata Non durerà due ore Comunque mi alzerò Per andare in bagno Dopo mezza birra Per dire il passare Del tempo inesorabile E non sarei l'unico Addormentato con la bavetta Perché cioè Non sarei sicuramente il primo Su questa parentesi Dei videogiochi Rovereto ha fatto Un passo indietro Però Però aspetta La prossima domanda A che altri giochi Giochi Ripresi Vai Sicuro che mi vuoi fare Sta domanda Sì sì Noi siamo certi Ok Otto ore di treno Abbiamo fatto Facciamo le domande Provo che vuole sapere Stefano Certo Ok Attualmente o in generale I miei giochi preferiti Attualmente anche in generale Allora Attualmente gioco moltissimo A un giochino Che si chiama Orna 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 Si gioca sul telefono È tipo un fantasy RPG Così Però è localizzato GPS Quindi tu ti muovi fisicamente col telefono E il tuo personaggio si muove nel mondo E ci gioco tantissimo Quindi stanotte Orna Rovereto E si va in giro a Più che altro Io sono venuto qua Con un transfer Da Milano Da Linate Per due ore Mentre parlavo con il driver Giocavo a Orna Perché mi stavo muovendo Quindi potevo uccidere tutti i mostri Cioè pensa Quanto è bello Tipo andare con me in vacanza Fun fact Io non guido Io guiderei Ma guiderei la mia compagna Perché noi Distruggiamo i ruoli di genere Bravissimi E quindi Infatti posso giocare a Orna Tantissimo Quello mi piacciono giochi Rimworld Lo conosci? No Sono dei giochi super complicati Brutti da vedere Ma Dei gestionali Iper complicati Ok Mi piacciono le cose pallose Evidentemente è proprio una cosa mia Ma questo Orna Come se tu cammini E uccidi dei nemici Tipo qua Se tu adesso lo metti qui Sì Uccidi Ci sono dei nemici Poi puoi conquistare Gli spazi Come Pokémon Go Quindi Ok Posso vederlo adesso Col pubblico Certo Ci saranno dei nemici Che mangiano cibo cinese Questo è il motivo per cui Facciamo il podcast È bello Per questi momenti Mi state divertendo No no ma io ti dico Sono felicissimo Mettiamo un timestamp In cui finisce questo momento Ok questi sono Ah ok Ah ma è fatto così E quindi Sì Questa è la strada dove siamo Se vi può consolare Non lo vedo neanche io Quindi è proprio una cosa loro Il vampiro che si muove Sono io Queste sono varie strutture Che compaiono nel mondo Cioè questo qui Questo blu Quello blu è il mio pet È un vecchio però Sì è un vecchio Perché l'ho preso a Natale Quindi era il pet di Natale Questi cerchi verdi Sono perché ci sono Dei giocatori Che controllano queste zone Ok E sono molto forti E c'è qualcuno Qualche giocatore qui No non puoi mai vedere Se c'è qualche giocatore Ah ok Ah non sappiamo Se uno di loro È un tuo nemico Ce l'hai tu Grazie Molto bene In prima fila Ma siete nella mia gilda Non siete nella mia gilda Vergogna Infami Io ovviamente Ho la gilda Sono il re della gilda Ok ci mancherebbe altro Perché Nella vita vera Umile ma su Horn Tantissimo È comando io Posso combattere Con il gran cavaliere Sirus Sì vai È 220 di livello Sì 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 Si fa Sono fortissimo Combatti Sono in top 30 Della mia regione La Sardegna È partito L'applauso È partito un applauso Bellissimo Grazie Grazie Spera che mia madre Veda questo podcast Sia fiera di me Sono delle zone geografiche Sì c'è la Sardegna La Corsica Un po' di Giustamente Nord Africa Voi popoli Può essere che sto morendo Ok Però Non lo so Sì Allora fai Incantesimi Assorbimento Incantesimi Aspetta Dove è assorbimento 3 Verde È verde Vai Perché quello Prende la vita Ok E no Mi ha colpito Sto per morire Di nuovo Stè per favore Secondo me È ben spesso Top 30 regionali Non facciamoli perdere il ranking Che facciamo una figura Veramente Vabbè io gioco Fai l'altra domanda Allora Forse è un po' legata Ok Vabbè Stè però O faccio la domanda O le fai te Sul videogioco Vabbè Quindi giochi gestionali No stai gioca Non ti preoccupare Cellulare Io ce l'ho un'altra domanda E invece Gioco più Preferito Vabbè niente Ora sei in balia No Questo e poi basta Gioco preferito Bioshock Bioshock Io ho i tatuaggi sui polsi Del protagonista Di Bioshock Ah Il primo La PS3 Era il primo Bioshock Cato di sì 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 Mi sa di sì Perché Perché è un gioco Molto politico E quindi comunque La mia fissazione Ritorna anche lì Bioshock Gioco politico È vero Effettivamente è così Stai io Ma dove giochi PC? Sì No non è console Non c'hai No Ho la PS4 Però Mia moglie l'ha presa E l'ha fatta diventare Un oggetto per guardare Netflix Ah ok Quindi E allora La domanda Esce spontanea Che ti stai vedendo In questo periodo? Stefano Unleashed Allora Ho vinto Vittoria L'ha ucciso Vai Prego Prego Vero Vero Confermo Quella è la domanda Cos'è che mi chiede Ho visto La finale di Pechino Express Io sono diventato Grande fan di Pechino Express Non c'è un applauso Perché non lo guarda nessuno Ci andresti? Sì però Ti tengono via molti mesi E io Devo lavorare Quindi non Nulla con chi è Da remoto Da remoto Nel suddest asiatico Su un camioncino Eccoci La nuova puntata di Breaking Italy Parla della mia sopravvivenza In realtà non l'avevo mai visto Però nella scorsa stagione Ci sono andati dei miei amici E quindi l'ho guardato Perché c'erano loro C'era Tipo Fru, Aurora Barbascura E quindi ho fatto Ah dai Bello sto programma Che esce da 60 stagioni Io non ne ho mai sentito parlare E quindi adesso Lo sto guardando E chi è tifato Con questa edizione? Ho tifato Totto Schillaci E la moglie Certo Come Giusto Totto Schillaci Io non ho niente Di Totto Schillaci Non sai niente Per me è il personaggio Di Totto Schillaci Il famoso personaggio Di Pechino Express Stefano oppure Non ha idea Di chi sia Il gran visir Come dicevano No che volevo dire Shadow and Bone Sto guardando Molto figo E qual è? Non ho più in suo presente È una serie fantasy Figa Oh wow ok Applauso alla serie fantasy Di una persona È un applauso Però era molto forte Quindi sembrava molto No con chi ci andresti Eventualmente A Pechino Express Allora O farei Quello palloso Che si porta Tipo il fratello Che però non conosce nessuno Tipo Fare i sardi Capito I nuragici Una roba Bellissima Di cui mi vergognerei Comunque Però lo farei lo stesso O magari qualcuno Della redazione Sarebbe interessante Allora a quel punto Diventi più Gli informati Non lo so Giusto A meno che tu Ci vuoi venire con me Breaking Italia Dai Dai Come ci chiamiamo Però a sto punto Videogiocatori Che ne so Non è facile Vai 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 Pensateci Pensateci anche perché Mi è stato fatto Un cenno abbastanza Chiaro Dalla retrovie Che hanno fatto? Tipo Mani sulla gola Tipo No A Rovereto Sono signori Hanno fatto il gesto Delle forbici Dalla punta arrotondata E invece sai che c'è Un'altra ora Allacciate le cinture E sul cellulare Vedi Adesso torniamo E da piccolo A cosa giocavi Chi deve cantare Chi deve cantare Di là Ci stanno i Guns and Roses Però Chi se ne frega No che c'è Le magliette Ci abbiamo Le magliette Ah I magliettari Ah I magliettari Non è così Che ti prenderà Il nappellino Express Non è toppando Il nome E devi anche fare La mossetta Perché ogni volta Che presentano La coppia Cioè fanno La mossetta Tipo Ah Questa ce la dobbiamo preparare Vabbè io sto fermo Stiamo fermi Stiamo immobili Ecco qua I fermi Posso lì una cosa Noi Facciamo concorre Alzateci i volumi Dei microfoni No Solo No no Noi facciamo così Ma non è vero Non succederà Però Tra un po' Ce li staccano Non è tanto Quello è quanto Il fatto che poi Su Youtube Non può andare la musica Quindi Madonna Se siete su Youtube Non guardate a che punto È il coso che ti dice Se il video sta per finire Perché ce n'è ancora tanto Ce n'è ancora tantissimo Non controllate Io ti voglio fare una domanda A tutti i costi Quindi non mi importa E poi al massimo Le persone a casa Non la vedranno Io prima Facevo una domanda A tutti quanti gli ospiti Chiedevo Cosa ne pensi Della legalizzazione Alle droghe leggere Però questa domanda Ha smesso di darmi soddisfazione Perché tutti mi davano La stessa risposta Quindi dicono sì Esatto Ok La domanda che faccio adesso È che rapporto hai Con la marijuana Allora Io sono per la legalizzazione Di anche parte Delle droghe pesanti Quindi questo magari Ti dà più soddisfazione Perché Oh grazie Rovereto in estasi Eccoli qua Rovereto Quali droghe pesanti Vorreste legalizzate Diciamolo veloci Vai Urlatele forte Tutte 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 Ma il nord-est è così Comunque Gli inverni sono lunghi E freddi E bisogna Bisogna arrivare A primavera In qualche modo Non avevo idea Ma un'altra ragione Per tornare Insomma Esatto Quella era invece L'altra cosa Che rapporto hai Con la marijuana Io Non mi fa Mi venire Il mal di pancia E il cagotto E sai bene Che ho dei problemi In questo senso Quindi non essendoci neanche Tutto città Presente È vero Non posso mettere In difficoltà Se ogni volta devi usare Un iphone No vabbè Quali droghe Vorresti legalizzare Gli psichedelici Penso che siano Legalizzare non vuol dire Che adesso andiamo tutti A comprarli Perché sennò Pensano che sono un pazzo Andiamo tutti a comprarli Però in una situazione Controllata Non è che dico Vabbè Tieni al bar Però alcuni psichedelici Sono molto interessanti E quindi penso Che potrebbero essere Legalizzati tranquillamente Anche alcune sostanze Che non tagliate Non sono così È diventata bruttissima No no vai 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 Anche alcune sostanze Che non tagliate Parla con me però Che Stefano È uno sbirraccio Tipo Ah wow Ad esempio Accio solo perché Stefano Noi forse L'ordine Sono amiche del podcast Lo diciamo Tipo le MDMA Nota come ecstasy Sì È molto pericolosa Per il taglio Però vabbè È un discorso un po' Però se ne prendi poca Misurata Ti cambia la vita Misurata in una situazione È interessante Sai a chi farebbe molto bene Il MDMA Il ragazzo alla tua testa Fa un pechino express Proprio Rivoluziona l'intrattenimento Ma E invece Che ne pensi Di legalizzare Il Il Casu Coi vermi Ah Il Casu Marzu Casu Marzu Spieghiamo cos'è Che al nord Non lo sanno Ok È un formaggio Lo sapete? Ah ma lo sanno Lo sanno È più famoso Dell'Ara Croft Il Casu Marzu L'avete mai mangiato? No Neanch'io Devo dire Sa di pecorino Molto stagionato È molto buono Però io non lo mangio Cioè L'ho saggiato Ma non lo mangio Perché Una cosa che non sapete È che i vermi Del formaggio Saltano I vermi saltano Quindi Tipo Se tu Normalmente Lo si mette In un sacchetto Di carta Perché è illegale Non è che lo puoi vendere Quindi si mette In un sacchetto di carta E quindi Sieni Tic 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 Perché Come i popcorn Ma sono vermi Ma sono creature Del cacio Però è estremamente buono Vedi E a Cagliari Poi ci puoi dire Fuori dai microfoni Dove andare per comprarlo? No Ma è negli stessi posti Dove ti fanno lo sconto 16 il codice Ah ok ok Cioè Ti danno anche un po' di Casu Marzu Perché è tutta una cosa Tra amici Capito? Bellissimo E la droga Bellissimo Stupendo Ma dacci sti codici Incredibile Ed è tutto al centro di Roma E tu non lo sapevi No Non lo sapevo Non lo sapevo Guarda Vabbè Certi posti Dei codici Che ti danno la droga Quello lo sapevo Ok Me l'hanno detto degli amici C'erano dei bar di Roma Dove se chiedevi Lo champagne Ti davano la droga Mi raccontavano gli amici Posti che adesso hanno chiuso Perché dopo un po' Se persino io so sta cosa A un certo punto Anche le forze dell'ordine Dicono Ragazzi Tu quante volte avrai chiesto Lo champagne Lo champagne Eh E poi se ne andava Ah tu ti sei Stratto che niente Se ne andava drogatissimo No io sto pensando E questa musica È progetta da SIAE Perché Se lo è dobbiamo Dobbiamo chiudere Se non lo è No ma Infamiamo Ma chi sta suonando Della No è otto ore di treno Quindi non sappiamo Niente del programma Ma è una cosa autorizzata Possiamo farli staccare tutto Wired lo sa Vabbè Io vorrei farti un'altra domanda Tanto poi al massimo È solo per il pubblico Sono tantissimi sti cazzi C'è un'altra rubrica Sti cazzi No voi Sti cazzi di quelli a casa Quelli a casa Esatto Ancora peggio E basta con sta cazzo di musica È partita la batteria Almeno questi sono usciti Quelli stanno a casa Quelli stanno a casa Commentano Che cacchio Ma che cazzo commentate Oh e C'è un'altra rubrica Storica Legata a questo podcast Quindi la domanda Che ti voglio fare è Dittatore estero preferito Essendo tu un personaggio Attento alla politica E alle vicende mondiali Dittatore estero preferito Occhio che ho detto estero Perché se no Era troppo facile la risposta Eh Ma Cioè lo devo scegliere così A caso Faccio una premessa Non è che stiamo dicendo Noi qua Non Condanniamo le dittature Di tutto il mondo Storiche Tutte le dittature estero Ci teniamo a condannarle Tutte quelle estere Però Siamo anche un podcast Comico E quindi Ci piace fare questa domanda Così goliardica Simpatica I parametri Per cui lo scegli Sei libero Di selezionarli tu Però qual è il tuo Dittatore estero preferito Dobbiamo dire estero Se no proprio la risposta Gli scappa dalla bocca Alle persone Allora Non so se sceglierne Uno a caso Il primo che mi viene in mente O uno che magari Perché ha un senso Uno che ti Che ti ispira Che mi ispira Sì Per on Come mai Perché è un po' Il padre del populismo Ok E quindi Tutto il periodo Peronista È molto interessante Perché per on Aveva la capacità Di essere Super populista Ma Il suo populismo Era Quasi Senza colore politico Cioè era in grado Di attrarre a sé Consenso In vaste aree Sociali Quindi Mentre È evidente Che in dittature Magari più nostrane Che non so se possiamo criticare Sì 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 Possiamo Possiamo criticare In quel caso Magari Ci si rivolgeva A una fetta Di Anche magari grande Di società Per on È il primo Che ha utilizzato Vari elementi Che poi sono ritornati Nei leader carismatici Del mondo La capacità di utilizzare Se stesso La compagna La Crudelia per on Se non sbaglio Crudelia per on Scusate Tanto questa La tagliamo Scusa Ho pure messo di suonare Guarda Finito il festival Andiamo a casa Dai Daniele ha detto Sta cazzata Quindi Sono anche attuali Volendo scegliere Anche altri Dittatori attuali Vai 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 Ditemene uno Minna Ungliang Aspetta Forse intendi Kim Jong-un Si chiama così Aspetta Non parlo bene la lingua Quindi mi sono confuso Chi è Chi è costui È il Dittatore Il generale Del Myanmar Ah certo Giusto Salutiamo anche lui Salutiamo il Myanmar Comunque abbiamo tanti spettatori Comunque lui non esce spesso fuori Perché ti piace Cioè ti piace nel senso Perché lo ammiro Dici Ok Perché Di fatto Se ne parla pochissimo E quindi Già se sei un dittatore Di cui si parla poco Ci sta Perché Eviti le critiche Vuol dire però Che stai parlando bene o male Cioè Il fatto di Non essere famoso Come dittatore Beh Nel senso Non so se tu fossi un dittatore Vorresti anche essere famoso Beh forse Forse Famoso all'interno E però all'esterno Sotto traccia Secondo me il Myanmar è molto famoso Il Myanmar famosissimo Però fuori no Ma che va bene Fuori fatica un po' Ad affermarsi Però ci sta lavorando È che C'è la Cina vicino Capito La Cina è un pochino più forte Certo È il cugino più forte Quindi uno si ricorda la Cina E non il Myanmar E non si ricorda il Myanmar Invece è anche un pensiero Al dittatore del Myanmar Facciamolo Esatto Va bene E forse No È che qua si sente proprio La batteria Cioè se sono un altro po' Possiamo fare Sarabanda con le canzoni Che stanno a fare È vero No però mi dicono Che in cuffia non entra In cuffia non entra No vabbè ma allora Allora andiamo Allora vado in bagno Cioè Io immagino Che voi abbiate domande Per ore e ore Sì No perché ora Ovviamente questa Cioè Parliamo della Della comunicazione Dei dittatori No E pensavo Ho risentito di recente Dei discorsi di Craxi Che parlava un po' Con un tono simile A quello Del Duce Cioè c'era un po' Quella cadenza No? Ok Quando No non c'è Non sei d'accordo? Non so in che cosa intendi Com'è il modo di Di esporre Cioè c'era quella cosa Cioè non parlava Come parliamo noi normalmente E poi però C'è stato uno switch Nei successivi Sì c'era prima forse Quello era un po' Un riferimento Non lo so Nelle persone forti Invece dopo È arrivato Berlusconi Non lo so Può essere che Berlusconi Abbia tracciato Una differenza In questa cosa qua Perché di fatto Quando sei un leader politico E devi costruire I tuoi discorsi Il modo di parlare Guardi sempre agli altri Guardi sempre indietro No? E Craxi era uno Che comunque aveva Una dialettica formidabile Questa cosa un po' Si è dimenticata Era molto bravo Ed effettivamente Era anche molto energico Quindi hai ragione Forse qualcosa c'era Berlusconi ha un po' Cambiato questa roba qui Perché è un politico Che si è fatto ammirare In qualche modo Quindi parlava In un modo diverso Però non dimentichiamo Che anche Berlusconi Allora è fortissima Questa roba Noi ce lo ricordiamo Ai tempi Negli ultimi tempi Ma all'inizio Aveva Faceva degli interventi Anche lui Molto forti Molto energici Nel modo di porsi Urlava Quindi può essere Che ci sia stato Insomma Un lento Un lento Cambiamento Poi bisogna anche dire Che a livello Dialettico Politici bravi Nel nostro paese Sono pochi Io continuo a dire Uno Adesso mi farò odiare Da tutti Uno dei politici Più bravi Nel fare discorsi È Matteo Renzi Cioè se tu guardi Gli interventi di Matteo Renzi In Parlamento Sono molto interessanti Da ascoltare Cioè il modo Con il quale Articola i discorsi È molto bravo E lo fa spesso Anche non preparando Preparandosi poco Non è una caratteristica Che hanno tutti I leader italiani Il peggiore Secondo te chi è? Il peggiore A livello dialettico? Beh ce ne sono Attuali Qua c'è la musica Vai vai Però se non entra in cuffia Tu ti starai muovendo Perché io non ho le cuffie Ma in cuffia Non sanno che c'è la musica Pensano Mazza puntatona Guarda c'è un sottofondo Quando parli di Renzi Bellissimo Motivazionale Beh vabbè Letta non era molto forte Ad esempio Possiamo dire Letta nipote Letta nipote Ma in realtà Il PD ha avuto Una sede di leader deboli Martina Qualcuno si ricorda di Martina Vi ho risvegliato un ricordo Anche lui non era fortissimo Magari Ce ne sono stati Vari Che non sono fortissimi Ok Va bene Forse Forse sul C'è il rock and roll Nel senso Andiamo a ballare No più che altro Andiamo a ballare Adesso facciamo quel duetto Di suoni Dutturali sardi Che dicevamo inizialmente E chiudiamo Su questa musica tradizionale Sarda proprio Esatto No va bene Forse andrei verso la chiusura Verso la chiusura Quindi Sto chiudendo Stai Stai chiudendo E facciamo come Roxa Spacchiamo i microfoni Per terra Rompiamo qualcosa No Sono i microfoni del festival Siamo grati al festival Questi sono questi quadrati Che comunque Sembrano costosi Ecco E allora Presto Veloce Allora Vabbè Vabbè Dai Fai quello che devi fare E allora Signore e signori Per favore Un altro applauso Per Alessandro Masala Fatevi un applauso Anche a voi Che comunque siete Veramente tantissimi Grazie mille Di essere venuti qua Fatelo anche a Stefano Rapone Beniele Tinti A Wired Wired The Comedy Club Grazie mille E ancora per l'ospite Ciao a tutti Ciao a tutte Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao Ciao Ha vinto la musica